Ciao a tutti! Oggi prepareremo i cookie alle castagne. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono olio di semi di girasole, yogurt alla vaniglia, fecola di patate, farina di castagne, zucchero, lievito per dolci vanigliato, margarina, granella di nocciole, gocce di cioccolato. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere la margarina, lo yogurt e l'olio. Ed azioniamo il baby per 30 secondi a velocità 3. Aggiungere la farina di castagne, la fecola di patate, il lievito ed azionare il baby per 40 secondi a velocità 3. Aggiungere le gocce di cioccolato e la granella di nocciole. Ed azionare il baby per 30 secondi, anti-orario, velocità 2. Il composto è pronto, formiamo i biscotti. Abbiamo rivestito una teglia da forno con carta da forno, adesso con un cucchiaio formiamo i biscotti. aggiungere sulla superficie qualche altra goccia di cioccolato e della granella di nocciole. cuocere in forno per riscaldato a 180 gradi per 15-20 minuti. i biscotti sono cotti, lasciare raffreddare completamente prima di servire. Cucchi alle castagne! Grazie e alla prossima ricetta! Cucchi alle castagne! Grazie, grazie! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Guardate a tutti!